Amici di Bella Sicilia, in diretta da Santo Stefano di Camastra, prende il via oggi Oktoberfest. Quattro serate all'insegna del grande divertimento, alla scoperta dei sapori della nostra terra e della birra italiana e tedesca artigianale, davvero quattro serate imperdibili. E anche le maggiorette presenti a questa prima serata inaugurale, l'applauso dei presenti. E qui questa sera e per tutte le quattro sere vi saranno infinite persone davvero entusiaste di vivere il fascino di Santo Stefano di Camastra per questi quattro grandi giorni. E tra poco torneremo a collegarci anche per un'altra passeggiata, facendovi un po' vedere le specialità enogastronomiche che vi presento. E tra pochi secondi le maggiorette incanteranno tutti i presenti, quindi continua da seguirci in diretta. Per vedere questo momento insieme a noi. E nel frattempo in diretta con l'assessore regionale, l'assessore del comune di Santo Stefano di Camastra al via queste grandi serate, assessore. Sì, infatti siamo in attesa di vedere lo spettacolo di queste meravigliose maggiorette delle bambine veramente splendide e quindi vogliamo vedere che esibizione stanno per donarci. Sicuramente ci faranno emozionare. Splendide come le quattro serate che vedrà protagonista Santo Stefano di Camastra. Assolutamente sì, l'abbiamo già detto, siamo alla decima edizione, ogni anno vedo crescere questo evento, chiaramente diventa sempre più attrattivo perché ormai ognuno di noi lo ha già segnato nel calendario. Assessore, cosa rappresenta questo appuntamento per voi? Rappresenta un indotto importante anche turistico perché porta nella nostra cittadina tantissime persone, stimiamo intorno a 15.000 persone già a partire da domani fino a tutta la fine settimana, quindi fino a domenica. In questi giorni la gente che verrà qui potrà degustare tanti tipi di birra italiana e straniera come ho già detto in altre occasioni e sicuramente potrà divertirsi anche con la buona musica. Grazie Assessori. E sicuramente non mancherà il buon cibo. Assolutamente, allora invitiamo tutti, grazie! Buona Cage! e con l'organizzatore Giorgio Parrino quale invito facciamo? sicuramente rinnovo l'invito di venirci a trovare in questi quattro giorni noi vi aspetteremo a braccia aperte e spero che saremo in grado di farvi passare quattro serate magiche e sarà senz'altro così sarete tutti benvenuti vi aspettiamo Octoberfest stefanese il grande appuntamento da non perdere a Santo Stefano di Camastra inizia questa sera solo tu me le puoi fare fare queste cose ha 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.